Escalation di furti in casa nel Friuli occidentale, tra i comuni più colpiti c'è Zopola, dove le istituzioni lanciano l'appello alla cittadinanza, segnalate movimenti o comportamenti sospetti, forze dell'ordine al lavoro, grazie alle videocamere di sorveglianza. Nuova conta dei danni in Friuli Venezia Giulia dopo l'ultimo weekend di maltempo, strade allagate e tetti scoperchiati in diverse zone del Pordenonese, Areana del Royale, La Grandine ha imbiancato le strade, agricoltura e terziario in ginocchio. Semaforo verde da Lega Ambiente per le Acque del Veneto, i campioni prelevati dall'ultimo monitoraggio sono entro i limiti di legge. I dati presentati questa mattina a Caorle tengono banco, gli impatti del cambiamento climatico con il rischio inondazioni per gli ambientalisti entro il 2100, il livello del mare nel porto di Venezia potrebbe salire di oltre un metro. La sala consigliare del municipio di Portogruaro ha ospitato la chitarrista Vera Danilina, vincitrice del prestigioso concorso internazionale di chitarra classica Michele Pittaluga di Alessandria. L'artista, classe 1999, ha incantato il pubblico l'evento nell'ambito del 41esimo Festival Internazionale di Musica. L'informazione di Media24, ben ritrovati con il telegiornale. Lo avete sentito dunque nei titoli, è il tema sicurezza a tenere banco in Friuli Occidentale con l'ultima ondata di furti. Il servizio lo firma Tania Pellegrini. Serie di furti in Friuli Occidentale, nelle ultime settimane in diversi comuni della destra a Tagliamento, si sono verificate delle rapine in case private. Il territorio di Zoppola è quello più colpito, ma anche Fiume Veneto e Casarsa della Delizia. L'attenzione da parte delle forze dell'ordine è alta e la polizia locale di Zoppola, attraverso suo comandante Luigi Ciuto, e ha invitato tutta la popolazione a collaborare nella sorveglianza delle abitazioni vicine e a segnalare auto e persone sospette contattando il numero unico di emergenza 112 o lo stesso comando di polizia locale. Come le forze dell'ordine, anche il comune non abbassa la guardia nemmeno per un istante, era assicurato l'assessore al controllo del territorio Paolo Pighin. I filmati delle telecamere distribuite nell'intero territorio comunale sono già stati acquisiti dai carabinieri per le indagini. Dalla collaborazione di tutti ne deriva una grande forza per contrastare il crimine, ha spiegato l'assessore, che ha ringraziato chi si è già attivato in questi giorni per segnalare e denunciare. Gli ultimi episodi di furto nel comune di Zoppola risalgono a pochi giorni fa. Nella notte di mercoledì 2 agosto i gnoti si sono introdotti in due abitazioni nella zona di Via Monti forzando una finestra, mentre i proprietari erano a dormire. A fine luglio era stata presa di mira un'abitazione nella località di Murlis. Il bottino corrisponde sempre a qualche centinaio di euro in contanti e monili in oro. Sugli episodi, probabilmente riconducibili ad una banda di ladri, stanno indagando i carabinieri. Cronaca in primo piano ancora, scontro tra moto e auto ieri sera a Reana del Royale. L'incidente è avvenuto all'altezza delle intersezioni tra Via Battiferro e Via Nanino. A seguito dell'impatto, il motociclista è stato sbalzato per circa 4 metri. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico che l'ha trasportato per i politraumi riportati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono seri. Due incidenti quasi in contemporanea questa notte anche a Caorle. Questa volta il servizio lo realizza Rosario Padovano. Due incidenti si sono verificati in territorio di Caorle questa notte quasi in contemporanea all'1.30. L'investimento di un capriolo ha caratterizzato il traffico sulla strada provinciale 54 tra Briand di Eraclea e la rotatoria di Lido di Altanea. Una Ford Fiesta guidata da un ragazzo di 90 ha centrato in pieno l'ungulato che è deceduto sul posto Polizia Stradale e Soccorso Vaccaro. Entrambi poi sono intervenuti sul ponte del Marango, quello con la strettoia sul fiume Lemene, dove una ragazza di Aviano alla guida di una Skoda Superb ha distrutto i due limitatori attorno all'1.30. Sequestrata la macchina, denunciata la ragazza per guida in stato di ebbrezza. La stessa, 22 anni, è stata poi trasportata dalla ditta di soccorso nella sua residenza avianese. Era destinatario di un mandato di arresto internazionale ma girava liberamente a Venezia. È così che la Polizia di Stato ha rintracciato un cittadino straniero nella notte tra venerdì e sabato in una struttura ricettiva dell'isola di San Clemente. L'uomo è stato condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. A Treviso, 11 metastasi tolte in un solo intervento. Il plauso del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. I medici non si arrendono mai. Un plauso all'equip intervenuta. Queste le parole di Zaia a commento della notizia dello straordinario intervento chirurgico effettuato all'ospedale della Marca. Dunque un intervento che ha appunto messo in atto l'equip di chirurgia 2 che ha consentito di togliere in una sola operazione 11 metastasi a un paziente. Lutto nel mondo della cultura e della musica. Addio a Francesca Scaini, 55 anni, la grande soprano di fama internazionale, deceduta alla tisana. Viveva a San Michele al tagliamento con marito e figlia ormai da diversi anni. Lutto in tutto il codro ipese, ma non solo. Numerose le attestazioni di stima all'indirizzo della famiglia. Era dotato di una voce eccezionale, dall'estensione nobile. Faceva vibrare i cuori del suo pubblico. Originale del comune di Camino al Tagliamento, la grande artista lascia un'impronta importante nel panorama della musica classica. Lascia marito e una figlia, oltre ai genitori. Funerali mercoledì 9 agosto a Codroipo con inizio alle ore 17. Domani invece i funerali di Aidan Cassaro, il 19enne che nel 2022 aveva ottenuto il diploma di maturità all'ospedale. La storia di un guerriero che può ospitare altri a raggiungere i propri obiettivi nonostante le difficoltà. L'anno scorso era riuscito ad ottenere il diploma di maturità benché costretto in un letto di ospedale. Non si è mai arreso fino all'ultimo istante, ma purtroppo la malattia ha avuto la meglio. Aidan Cassaro si è spento a 19 anni nel reparto di pediatria dell'ospedale di Pordenone. Domani alle 17 i funerali nella chiesa di Casarsa della Delizia. Nonostante una malattia debilitante lo costringesse a letto, negli ultimi tre anni Aidan non ha mai smesso di sognare. E un primo traguardo lo ha raggiunto grazie anche al lavoro di Nadia Poletto e Silvia Burello che coordinano la scuola in ospedale, superando l'esame di maturità con 78 centesimi. YouTube e i videogiochi lo hanno aiutato a fuggire via dalla sua condizione ad esplorare mondi lontani con la mente, attività che condivideva con il fratello e la sorella. Grazie all'associazione dei sogni, un altro suo desiderio è stato esaudito, incontrando De Pruld, uno youtuber di cui Aidan era molto appassionato che da Perugia ha viaggiato fino all'ospedale di Pordenone per incontrare il suo fan. La sua vita, seppur breve, è stata piena di determinazione, sogni e forza di volontà come quella di un vero guerriero. E i genitori Denise e Antonino Cassaro sperano che possa essere di ispirazione per chi sta attraversando momenti di difficoltà. Domani, l'ultimo saluto nella chiesa di Casarsa. Guizze della Guardia di Finanza in zona industriale a Padova ha sequestrati 10 milioni di prodotti infiammabili stoccati irregolarmente. Nel corso dell'operazione le fiamme gialle hanno posto i sigilli anche a più di 620 portachiavi contraffatti con il marchio Squid Game. L'operazione è scatata all'interno di una società dedita al commercio all'ingrosso di oggettistica varia. I prodotti in questione, seppur regolari dal punto di vista della fabbricazione e dell'importazione, sono risultati stoccati in commissione con altro materiale altamente infiammabile in violazione delle prescrizioni e cauteli imposte dalla normativa di settore. Tra questi accendini, bombolette per ricarica, oli lubrificanti, spray per lucidatura e diluenti chimici. Il materiale infiammabile, sempre secondo quanto emerso dalle indagini, era detenuto in maniera non sicura, non osservando tra l'altro le vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni, denunciato il legale rappresentante. Ancora un weekend, l'ultimo che ci siamo lasciati alle spalle di maltempo in Friuli-Venezia-Giulia, strade allagate, tetti scoperchiati dal forte vento, areana del Royale, la Grandine ha imbiancato le vie come fosse neve, agricoltura e terziario. In ginocchio. Ancora maltempo nel weekend per il Friuli-Venezia-Giulia, vie allagate e Grandine scesa come neve in diverse località. Ieri pomeriggio una bomba d'acqua è scesa a macchia di leopardo sulla regione, lasciando fiumi di acqua nelle strade e allagando gli scantinati delle abitazioni. In particolare, nelle zone di Reana del Royale, Tricesimo, Tarcento, Remanzacco, Moruzzo e Campoformido. Alcune auto sono rimaste bloccate dalla Grandine, che ha completamente ricoperto le strade come fosse neve. Nel Friuli occidentale, colpiti soprattutto i comuni di Fontana Fredda, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone e le zone limitrofe. Sempre più in difficoltà, i territori già colpiti duramente dalla Grandinata di due settimane fa, che ancora una volta si ritrovano a fare i conti con il vento che porta via i teli dai tetti e l'acqua che si infiltra nelle abitazioni. Lavorano senza sosta gli operatori della protezione civile regionale, che ieri pomeriggio hanno messo in campo un'ottantilla di volontari per rimediare i disagi causati dall'ennesima forte perturbazione. Nel frattempo, continua la conta dei danni anche per le imprese agricole del terziario, destinata ad aumentare visto l'episodio intenso di ieri. Solo nel Friuli occidentale, i danneggiamenti ammontano a oltre 1.700.000 euro, secondo una prima stima data da un'indagine di Ascom Conf Commercio. Più di 15 casi esaminati hanno superato i 30.000 euro di danni e per qualche impresa commerciale si va oltre i 100.000. In ginocchio, anche il settore dell'agricoltura, che ha già perso l'80% dei raccolti, soprattutto per le aziende vitivinicole e cerealicole, senza contare i danni alle infrastrutture aziendali. CFWG ha fatto sapere che in ballo c'è la sopravvivenza di alcune attività. Il maltempo del weekend ha ritardato le partenze di alcuni vacanzieri. Il dato che si sta consolidando dall'inizio di questa stagione estiva è l'aumento del traffico nelle giornate di domenica e di inizio settimana. Ha fatto sapere questo, Autostrade Alto Adriatico, questa mattina all'insieme dei fattori. Ha fatto sì che fin proprio dalla mattinata odierna sono stati registrati notevoli transiti diretti verso Trieste-Lisert. Maltempo, mezz'ora di pioggia, vento e terrore nella zona di Oderzo. Caduti 40 mm di pioggia in 38 minuti. Allagamenti anche a Cessalto e a Gorgo al Monticano. Danni registrati a Salgareda, Chiarano e Mansuè. L'allerta è stata comunicata tardi, soltanto quattro ore prima che accadesse. Il colore è la giallo, ma l'esito in alcune zone è stato dalle conseguenze arancioni. A Oderzo il maltempo ha fatto breccia, soprattutto in centro. Sono caduti 40 mm di pioggia, così come in alcune campagne di Cessalto. Si sono registrati allagamenti nel pieno centro storico Opitergino. La rete fognaria è andata in tilt. Il semifortunale poi ha colpito duro abbattendo una decina di alberi, sempre a Cessalto e anche a Salgareda. In questi due paesi è uscita la protezione civile. Tutto sommato però è andata bene. Allagati due sottopassi a Oderzo. La situazione è tornata alla normalità dopo circa un'ora. Ripercussioni sull'agricoltura. Fruttete e vigneti sono stati danneggiati a Motta di Rivenza nelle frazioni e a Chiarano, così come a Gorgo al Monticano, dove si era registrato l'allagamento del sottopasso di Villa Revedin. Un maltempo improvviso, l'annuncio dell'allerta era stato dato soltanto alle 14. Un'allerta che è durato solo sei ore, perché comunque in serata era stato già dismesso. E sul fronte delle conseguenze da maltempo ci sono anche degli interventi che vengono incontro ai cittadini che purtroppo hanno riportato delle conseguenze importanti. Come Treviso Protetto, la task force per le famiglie e le imprese colpite da eventi di straordinaria natura. Ha stanziato un plafond da 30 milioni di euro. Treviso Protetto è un'iniziativa che va a sostenere le famiglie, le imprese del Comune di Treviso che hanno subito danni enormi da eventi atmosferici. Per questo motivo abbiamo costruito uno strumento insieme alle associazioni di categoria e ai confidi con il coordinamento dell'amministrazione del Comune per dare liquidità immediata immediata per il ripristino della capacità produttiva delle imprese e per i danni subiti dagli immobili, le automobili e anche dei privati. Noi abbiamo voluto, dopo un confronto e la raccolta della preoccupazione della comunità abbiamo voluto dare risposte in tempi rapidissimi. Pensate che questa iniziativa nasce in sette giorni e nei prossimi giorni sarà già operativa proprio per consentire di avere quella liquidità necessaria per ripartire nella propria vita. Lei ha fatto un giro per le aziende. Com'è la situazione? Lo stato d'animo degli imprenditori? Lo stato d'animo degli imprenditori è abbastanza abbattuto perché comunque sono danni improvvisi che non sono calcolati nello che può essere il business plan dell'azienda e quindi a questi tipi di danni bisogna intervenire con delle risposte celeri e immediate. Ambiente, semaforo verde per le acque del Veneto, campioni entro i limiti di legge. I dati presentati questa mattina dalla Goletta. Verde di lega ambiente, preoccupazioni sul fronte del cambiamento climatico entro il 2100, secondo gli ambientalisti il livello del mare nel porto di Venezia potrebbe salire anche di oltre un metro. Qualità delle acque della costa Veneta, tutti entro i limiti di legge e i parametri degli 11 campioni raccolti. È l'esito dell'ultimo monitoraggio della Goletta verde di lega ambiente che questa mattina a Caorle ha presentato il bilancio dei prelievi svolti dai volontari nei vari punti della regione. Giudizio positivo dunque per il secondo anno consecutivo. Lo scorso 18 luglio sono stati campionati ed esaminati quattro punti a mare, sei alla foce dei fiumi e uno in laguna. Tra le varie località la spiaggia della Brussa e presso piazza Marco Polo, entrambi a Caorle, quindi lo sbocco della laguna a Punta Sabioni, la spiaggia delle Tolle a destra della foce del Po in località barricata a Porto Tolle. A seguire la bocca di Porto Falconera, ancora a Caorle, la foce del fiume Piave a Jesolo, la foce del Sile a Cavalino Treporti, la foce del Brenta a Isola Verde in quel di Chioggia, ma anche la foce dell'Adige a Rosolina e quella del Po di Maestra a Bocca Sette e infine la laguna del Mort a Eraclea. Per lega ambiente bisogna continuare a monitorare le foci dei fiumi di grande portata e aumentare il livello dei controlli sulla depurazione. Il dossier spiagge fa riferimento anche agli impatti del cambiamento climatico che per i comuni costieri sono ormai evidenti. È grave, riferiscono gli ambientalisti, il rischio inondazioni. Entro il 2100 il livello del mare nel porto di Venezia potrebbe salire di oltre un metro, mentre 264 chilometri di costa lineari della pianura padano-Veneta e oltre 5.000 chilometri quadrati di aree rischiano di essere sommerse dall'acqua. Maurizio Bilotto, vicepresidente di Legambiente Veneto, ben trovato. Abbiamo visto insomma il servizio e chiaramente il dossier di Legambiente sottolinea come la qualità delle acque in Veneto sia fortunatamente buona. È arrivato il semaforo verde, ma è chiaro che però ci sono anche dei risvolti legati ai controlli da effettuare proprio alle foci dei fiumi di larga portata, ma anche il tema poi dei cambiamenti climatici. Quell'aumento dell'acqua al porto di Venezia di oltre un metro deve far riflettere. Sì, è chiaro, diciamo, da un lato la fotografia dei dati, che sono dati puntuali, del campionamento che viene fatto, la ricerca appunto dell'escherichia coli e dei coli batteri fecali, legati ai buoni risultati di quest'anno, mentre l'anno scorso c'era un po' di chiaro-oscuro, insomma, quindi sicuramente bene da questo punto di vista. Quello che ci preoccupa e preoccupa chiaramente un po' anche gli imprenditori, sono tutto il collegato che sta portando avanti anche la goletta con questa campagna, cioè la crisi climatica, gli impatti sulla biodiversità, su quello che succede anche dal punto di vista di questi eventi estremi, meteorologici, quindi le acque alte ripetute che abbiamo visto ad agosto a Venezia, che si ripetono anno per anno, questi fenomeni si accentuano, quindi la mareggiata che ha colpito per l'ennesima volta Iesolo, perché ricordiamo che colpisce il litorale ma grave in maniera particolare su Iesolo, perché uno dei dati usciti dal rapporto spiagge era proprio sui fenomeni climatici estremi che sono stati mappati negli ultimi dieci anni in Italia e nel Veneto. Il Veneto sono stati 25, 5. Dal 2010 leggo ad oggi 25, 20 estremi. 25, ma la maggior parte di questi sono stati mareggiate e il numero più alto, 5 o 7, adesso non ricordo bene, proprio su Iesolo con numeri e erosioni del litorale veramente massicci. L'altro giorno ne ha dato l'ennesima dimostrazione. Ed è su questo che comunque dobbiamo focalizzarci, perché se la campagna è storica sulla qualità e quindi sull'efficienza degli impianti, delle acque e quindi sui fiumi che ci danno comunque un buon risultato anche, se ripeto, il dato è sui campioni di Lescherichia Coli, quindi non tanto chimico, che è una cosa che facciamo anche con la parte legata a operazioni fiumi, l'altra campagna che facciamo in Veneto. ARPAV ne certifica la bontà, quando ci dice le acque sono loro, è l'ARPAV lente che certifica la qualità delle acque dal punto di disabalneazione e quindi le bandiere blu che vengono date in abbondanza significa comunque di un buon lavoro per quello che riguarda questa costa. Molto, anzi tutto, rimane da fare invece su quello che riguarda l'adattamento e la prevenzione dal punto di vista della crisi climatica. Trombe d'aria però anche eventi forti, un altro risvolto della vostra analisi e che fa riflettere. Da un lato c'è chi dice insomma ma questi fenomeni fondamentalmente ci sono sempre stati, così come le grandi nate, voi che posizione avete? Beh insomma, possiamo dire fake news, nel senso che è vero che sono sempre stati, ci mancherebbe altri, ma non è con questa frequenza, con questa intensità e non abbiamo mai avuto eventi meteo di questo tipo. Da che cosa poi lo ricaviamo? Dal dato della temperatura delle acque del mare, perché questo è l'altro dato oggettivo. Cioè quindi ce l'hanno già spiegato ormai nel 2018 quando abbiamo vissuto il dramma di Vaia che tutto era dovuto anche in quel caso all'eccessivo rialzo della temperatura delle acque. E questo si sta ripetendo. Quindi il mare non è che si riscalda perché qualcuno ha acceso la resistenza scalda dell'acqua. Cioè quindi c'è un fenomeno sul quale l'uomo ha le proprie responsabilità e non ne vediamo ancora chiarezza su questo, non ci sono azioni. E questa è un'azione che va fatta da tutti i compresi, soprattutto da tutti coloro che vivono di turismo, di turismo balneare. Bisogna cambiare il modello. Lo ripetiamo, lo insisteremo perché non è una battaglia contro, ma è una battaglia insieme. Grazie Maurizio Bilotto. Grazie a voi. Per essere stato con noi a Caorle, sempre a parlare di ambiente e nell'ambito dell'evento di Goletta Verde, anche l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin, intervistato da Rosario Padovano. Gianpaolo Bottacin, assessore alla protezione civile regionale del Veneto. Veneto in prima fila per i cambiamenti climatici. Purtroppo non è un'estate positiva, assessore. Non è un'estate positiva, ma già da alcuni anni noi rileviamo un aumento della frequenza dei fenomeni meteo estremi, e lo abbiamo rilevato anche in questa settimana, che non è stato per nulla facile. Così come rileviamo già da parecchio tempo un incremento della temperatura media in Veneto di circa mezzo grado ogni dieci anni. Negli ultimi trent'anni abbiamo registrato un incremento della temperatura media del Veneto di 1,5 gradi centigradi. Possono sembrare pochi, ma in termini assoluti invece rappresentano una modifica del clima che stiamo rilevando e che comporta anche un incremento della frequenza dei fenomeni meteo estremi. Ovviamente noi stiamo agendo su due fronti, quello dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Abbiamo investito quasi 2 miliardi di euro in opere di difesa del suolo per difendere i nostri concittadini. E dall'altra parte sulla mitigazione, dove abbiamo investito anche qui oltre un miliardo di euro su tutti quegli elementi che possono generare alterazioni del clima attraverso l'emissione in atmosfera. Qui a Caule, nel mandamento di Portogruaro, si aspetta ancora il geotubo per cercare in qualche modo di attutire gli effetti dei cambiamenti climatici e le mareggiate, che purtroppo diventano frequenti anche in estate. Io non so se siete informati, ma noi abbiamo appena posizionato quattro pennelli nuovi e anche un geotubo che sta dando degli effetti proprio qui a Caule, 2 milioni e 250 mila euro di investimento. Quindi il geotubo è stato collocato? È stato collocato. Bene, però non è sufficiente? Non è sufficiente e l'esito è positivo. Io ho parlato anche con alcuni albergatori proprio questa mattina, l'esito è positivo, c'è un ripascimento. Ricordo che per quanto riguarda l'erosione costiera, noi abbiamo una convenzione con l'Università di Padova, con il professor Wall che ci ha fornito uno studio che adesso sarà in aggiornamento, in settembre lo presenteremo all'evoluzione, dove si dice chiaramente che il ripascimento meccanico, cioè l'apporto di sabbia, non sarà mai totalmente eliminabile. Questo lo dicono i massimi esperti. Ovviamente questo comporta comunque che noi ci impegniamo in investimenti in opere di difesa spondale. Lo stiamo facendo, continueremo a farlo, l'esito è positivo. D'altro canto, se abbiamo questa problematica del ripascimento, è dovuto anche allo sfruttamento dei fiumi, che in Veneto è particolarmente importante, sia dal punto di vista dell'agricoltura, sia dal punto di vista della produzione dell'energia idroelettrica. Questo comporta un minore apporto di trasporto solido a valle, quindi è un equilibrio che si cerca di tenere in piedi. Parliamo di politica. La segreteria metropolitana di azione si riorganizza in vista delle prossime scadenze elettorali di primavera 2024. Sotto la guida di Antonella Garro, la nuova segreteria politica avrà lo scopo di gestire i rapporti col territorio in vista delle prossime amministrative. Lo stesso movimento a renderlo noto. L'attività della nuova segreteria politica sarà impegnata per il rinnovo della ricostituita città metropolitana per rendere la struttura rispondente alle esigenze del territorio. La segreteria politica ha definito tutti i vari ruoli. Sul fronte della segretaria Antonella Garro, due vice segretari, Paolo Bonafè a Venezia, Alessandro Coccoli in Veneto orientale, il responsabile organizzazione Fabio Zaccarin, fino al responsabile enti locali Mariana Duregon e da responsabile amministratori Cristian Zara. Sul territorio anche tutti i coordinatori a Portogruaro, il dottor Mario Pizzolito, coordinatore del partito, oltre che referente anche dello stesso partito per quanto riguarda la sanità. Politica, il punto della situazione sul fronte del centrodestra nel servizio di Rosario Padovano. Continua ad essere molto fluida la situazione politica nel portogruarese dopo la discesa in campo di Gianluca Forcolini in Forza Italia, come coordinatore poi del Veneto orientale. Il centrodestra è certamente diviso, forse spaccato, soprattutto a Portogruaro e nel mandamento. Non è una bella notizia in vista delle elezioni politiche del 2024, quelle amministrative, cioè nel territorio. Ma c'è anche, come canta Vasco Rossi, c'è chi dice no. È il caso di Simone Ferron, l'assessore alla sicurezza di Concordia, intimo amico e fedelissimo di Forcolin dalla prima ora. Ferron l'altro giorno ha rinnovato la tessera della Lega. Non ci sono commenti da parte del vice sindaco di San Donà. In Forza Italia comunque si registra l'allontanamento definitivo di Luigi Geronazzo. Si è scoperto che non rinnovava la tessera dal 2018, quindi alle elezioni del 2020 a Portogruaro, Forza Italia, che sosteneva ufficialmente Maria Teresa Senatore e non era alleata della Lega, si è rappresentata divisa ancora di più Geronazzo da una parte e Pietro Rambuschi dall'altra. Geronazzo ha replicato sostenendo che il suo punto di riferimento è il coordinatore provinciale Celeghin, non riconoscendo la leadership di Forcolin, che poi non ha mai incontrato. Intanto Flavio Tosi, il coordinatore regionale, ha adottato un primo provvedimento. Ha estromesso Luigi Geronazzo dalla chat di partito. Centro-sinistra più unito, si fa largo l'ipotesi appunto del campo largo col Movimento 5 Stelle, che presenterà il suo simbolo, e torna di moda un nome che forse fa sorridere, ma nemmeno tanto. Antonio Bertoncello, proprio lui, non si sa in quale veste sarà candidato, quasi certamente nel 2024. Nell'ultima consigliatura ha messo da solo spesso in difficoltà il centro-destra, ma senza far male troppo al sindaco Florio Favero, col quale ha avuto un atteggiamento cavalleresco ricambiato. Continuiamo a parlare di politica a Portogruaro. Luzio Leonardelli è con noi, centro-destra diviso, Luzio, nella città dell'Emene? Secondo me il tempo è ancora abbastanza lungo per dire se sarà diviso, se sarà unito. Il gioco delle alleanze credo che non sia ancora nemmeno stato impostato, perché per il momento mi pare che ognuno stia giocando alle proprie carte, Fratelli d'Italia sta naturalmente giocando le sue, vivendo un po' sulla base dei risultati che ha avuto alle politiche. Poi bisogna verificare naturalmente cosa succederà realmente al momento in cui ci andranno ai comunali, perché non sempre i voti si riflettono dalle politiche dei comunali. La Lega, che ha fatto qualche giorno fa l'inaugurazione della propria sede, si sta altrettanto muovendo in proprio, per quanto mi è perso di capire. Sarà dura per entrambi i partiti cedere a un candidato, di uno o dell'altro, dico. Beh, oddio, ad oggi mi pare che ce ne siano già diversi, visti i nomi che circolano, ce ne sono parecchi, quindi in effetti sarà poi dura scegliere, indubbiamente. L'altro giorno, in occasione dell'inaugurazione della sede della Lega, Luca Zaia ha in qualche modo battezzato quella che dovrebbe essere la ricandidatura, per quanto riguarda la Lega, di Florio Favero, in quanto a suo dire, e a dire evidentemente anche della Lega, è stato defenestrato per altri motivi, non certo per causa sua, di conseguenza meriterebbe in questo caso la ricandidatura. Non so appunto cosa ne sarà per quanto riguarda Fratelli d'Italia, rispetto, come la penserà rispetto a questa ricandidatura, e la curiosità sarà in questo caso vedere cosa farà invece Forza Italia, perché Forza Italia con queste manovre nate in questi ultimi mesi, con questo arrivo di Gianluca Forcolini, di molti ex leghisti, Luigi Geronazzo, scusate se ti interrompo, proprio da qui Geronazzo ha espresso le sue perplessità. Appunto, Geronazzo poi si muoverà per conto suo, anche se mi pare che all'interno di Forza Italia in effetti non sia stata granché digerita questa candidatura a coordinatore, anzi questa nomina a candidatura, e nomina più che candidatura di Forcolini a coordinatore del Veneto orientale per Forza Italia. Quindi sarà anche da capire cosa succederà appunto per Forza Italia, perché è pur vero appunto che è una realtà in movimento, mi pare di capire anche che lo stesso Forcolini si stia muovendo molto, e quindi diciamo che tutto è in progress e quindi visto che mancano nove mesi diciamo che sarà un parto lungo. C'è tempo, 30 secondi, centro-sinistra invece pare che si possa prefilare una compagine un po' più strutturata relativamente alle alleanze, par di capire, ma mancano nove mesi. Sembrerebbe di sì a dire il vero, in effetti perché il PD per quanto concerne quella che è la parte ufficiale del PD, perché anche lì non è che ci siano rose e fiori all'interno, e quindi diciamo che il PD comunque ufficialmente ha lanciato quella che è una proposta di alleanza complessiva per il centro-sinistra, mi pare che so che il Movimento 5 Stelle ha già dato proprio ok. Ecco, un'altra incognita, secondo me sarà da capire cosa succederà per quanto riguarda la componente che fa riferimento alla Sara Moretto, ovvero Italia Viva, piuttosto che Azione, perché anche se anche lì ci sono divisioni a livello nazionale, però sul territorio, insomma, bisogna vedere cosa realmente succederà, perché la stessa Sara Moretto credo che in qualche modo vorrà dire la sua rispetto a quello che saranno le amministratorie a Portugale, per cui i giochi sono ancora tutti da fare, e quindi secondo me comincieremo a parlarne in maniera vostra e più concreta a fine anno. Ci torneremo, grazie Lucio Leonardelli. Andiamo a Sacile perché ci sono alcune informazioni relativamente a lavori, proprio in centro-città sentiamo il sindaco Carlo Spagnoli. Per ragioni organizzative l'inaugurazione dei lavori di ripristino di Piazzetta Marini è stata posticipata venerdì prossimo alle ore 12, questo per ragioni tipo tecnico-organizzative. Parliamo di un lavoro importante che è durato forse un po' di più di quello che ci aspettavamo, ma il risultato finale lo considero soddisfacente. Ci tratta del consolidamento della sponda perché nel tempo il cedimento era evidente e allo stesso tempo è stata riqualificata l'area con una discesa molto bella e la possibilità appunto di fluire di una prodo anche per i mezzi fluviali. La consiglio è una cosa importante perché questo tassello ulteriore di qualificazione del nostro centro consentirà di inserirsi nel progetto del cosiddetto contratto di fiume che vede più comuni coinvolti nella riqualificazione a tutti i livelli del nostro fiume Livenza. Sempre parlando di fiume e di attraversamenti, è in fase di completamento e di collaudo il ripristino della passerella vedonale sul retro del Duomo che come ricordo era stato interrotto il suo utilizzo ancora un paio d'anni fa per ragioni di sicurezza. La struttura infatti in legno lamellare era ormai deteriorata e quindi non era più possibile praticare quel passaggio. Porto Gruaro, la sala consigliere del municipio ha ospitato la chitarrista Vera Danilina vincitrice del prestigioso concorso internazionale di chitarra classica Michele Pittaluga di Alessandria. L'evento rientra nell'ambito del 41esimo festival proprio di musica di Porto Gruaro presente in rappresentanza del concorso Pittaluga anche l'organizzatore del stesso evento che abbiamo intervistato poco prima dell'esibizione dell'artista. Noi abbiamo sempre puntato negli ultimi 30-40 anni, il nostro concorso compie 55 anni quest'anno di avere un Montepremio che consentisse ai giovani vincitori di potersi esibire dovunque per farsi conoscere. Essere qui a Porto Gruaro in un festival che compie 41 anni così prestigioso è prestigioso non solo per noi ma sicuramente anche per il vincitore. In questo caso Vera Danilina che ha vinto l'anno scorso in maniera magistrale è un personaggio che farà sicuramente tanta strada come tanta strada hanno fatto tutti gli altri vincitori del nostro concorso. Sperando che la nostra partnership possa continuare negli anni mi sembra doveroso contraccambiare l'invito invitando sia il presidente del festival che anche il commissario straordinario prefettizio dottor Olita in Alessandria per la nostra finale. Il nostro concorso si svolgerà da lunedì 25 con la presentazione della giuria, la presentazione dei concorrenti e terminerà con la prova finale il giorno 30 di settembre sabato nel Teatro Alessandrino. Ci tengo a sottolineare che è l'unico concorso al mondo che fa parte della federazione dei concorsi di Ginevro internazionale e è l'unico che si svolge con la prova finale direttamente con un'orchestra. Quindi i tre finalisti che verranno appunto ammessi alla prova finale faranno la loro prova davanti al pubblico accompagnati dell'orchestra. Sport Antonio Fantin vince un altro oro senza garezzare grazie alla staffetta 4% mista. che aveva disputato la batteria del mattino ottenendo la qualificazione. Antonio Fantin vince la terza medaglia d'oro ai mondiali di Manchester che si sono conclusi ieri sera di nuoto paralimpico centrando infatti il primo posto nella staffetta 4% mista. È stato sufficiente gareggiare al mattino nella batteria per ottenere la qualificazione e quindi la medaglia che poi in vasca è stata in finale conquistata da altri concorrenti tra cui l'azzurro Simone Barlam autentica stella di questi giochi visto che pochi minuti prima aveva ottenuto anche nella sua categoria l'oro nei 50 stile libero con il record del mondo. Il bottino finale dunque parla di tre medaglie d'oro una in staffetta 4% mista, una nei 50 stile libero, una nei 100 stile libero S6 con l'argento nei 400 stile libero. Tutte queste medaglie con vista sui giochi paralimpici di Parigi nel 2024. Un'ultima di sport, si concludono domani le due sessioni di allenamento giornaliere nella palestra Sporting House di Fiume Veneto per la campionessa mondiale paralimpica di tennis tavolo Giada Rossi. In questa settimana sono stati qui guidati dal gemonese Pischiuti e dalla coreana Eumbit. Le sessioni di fisioterapia e preparazione atletica sono coordinate da Alessandro Sellan che fa parte dello staff azzurro. L'avvicinarsi del massimo appuntamento degli europei lo staff sarà in ritiro al centro federale di Lignano dal 12 al 23 di agosto e dal 26 al 1 settembre per poi partire il 2 per la rassegna continentale in Inghilterra a Sheffield. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Vi lascio come sempre le nostre previsioni del tempo. A seguire la rubrica Salute in prima linea e poi Italpress e il film da non perdere alle 22. Arrivederci. Grazie.